Le luci d'artista sono salve. Questa mattina davanti al TAR la svolta che fa tirare un sospiro di sollievo all'amministrazione, agli operatori economici e ai cittadini di Salerno. Le operazioni di montaggio delle luminarie possono andare avanti. I francesi di Blascher Illumination infatti hanno rinunciato alla sospensiva decidendo di entrare nel merito del ricorso presentato contro l'affidamento triennale alla IREN. Tradotto, nessun provvedimento cautelare, le luci d'artista si possono accendere, almeno per quest'anno. Si parla spesso di impresa sociale, ma con spirito di responsabilità e di sensibilità nei confronti di tutta la comunità salernitana abbiamo ritenuto che, anche trattandosi di un accordo che prevede tre edizioni in sostanza, di fare questo, chiamiamolo, sacrificio sulla prima edizione senza però rinunciare a coltivare l'aspettativa di poter realizzare la seconda e la terza. Questa manifestazione è motivo di lustro per tutta la regione Campania, che spero venga apprezzata anche da chi, nelle settimane scorse, e mi riferisco a qualche associazione di categoria, ha forse avuto delle dichiarazioni un po' sopra le righe. Soddisfatto il sindaco Vincenzo Napoli, che può tirare un sospiro di sollievo. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio alle parole della fascia tricolore. Spegnere le luci, aggiunto, avrebbe causato una battuta d'arresto per l'economia locale. La luci d'artista per questo territorio e per questa città ha rappresentato sicuramente sul piano nazionale un momento di identificazione molto forte e anche per la riqualificazione urbana. Quindi noi, non soltanto come avvocati, ma soprattutto anche come cittadini, abbiamo apprezzato stamattina anche l'equilibrio con il quale il Tar ci ha messo in condizione di trovare una soluzione. Il ricorso sarà discusso dal Tar di Salerno il prossimo 7 febbraio, ma qualunque sia la decisione è più che sicuro che l'ultima parola spetterà comunque al Consiglio di Stato. Grazie a tutti.